Prendi un'arma da fuoco mentre peschi. Allora vi consiglio di atterrare qua al paradiso del pescatore. Io normalmente ogni stagione, se c'è un incarico di questo genere, atterro proprio qui. Trovate tanti buchi da pesca e normalmente non ci sono avversari, ma potete naturalmente andare dove vi pare. Comunque secondo me è uno dei posti migliori. Pescate un'arma e avete completato l'incarico. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS